Altra importante discesa di contagi in Puglia, che ormai è stabilmente attorno ai 20 casi per quel che concerne l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti. Un numerino che è diventato però fondamentale a pandemia in corso, anche per le scelte del governo nelle restrizioni da adottare sui territori. La Puglia in zona bianca non cambierà colore, almeno per il momento. Oltre il 22% in meno di casi di nuovi contagi negli ultimi sette giorni è una curva dei decessi che tende ad appiattirsi ormai con una media di non più di due al giorno. Tra le province risale quella di Taranto, che si attesta ad una incidenza di 23, esattamente come la BAT. Resta poco più in alto Brindisi, che comunque ha una netta diminuzione rispetto ai giorni scorsi e si attesta a 31 casi ogni 100.000 abitanti, mentre restano al di sotto dei 20 le altre province pugliesi. Ma il dato che più rassicura è quello sui carichi sanitari. Nelle terapie intensive sono occupati solo il 3% dei posti disponibili, mentre in area medica solo il 6%. Sul fronte dei vaccini, il 53% dei cittadini pugliesi, pari ad oltre 2 milioni, hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 27% ha già completato il ciclo vaccinale. In entrambi i casi, la Puglia è al di sopra della media nazionale.